Si spera che siamo andati, come poco è successo quest'anno, in vantaggio, negli sbagliatoi. Poi ci siamo fatti commontare e poi persi 2-1 su palle inattive che sicuramente potevamo fare meglio. Anche settimana lavoreremo di più per cercare di comprendere questi gol banali su palle inattiva. Secondo me la prestazione è stata meglio di Teramo, meglio delle ultime uscite. Potevamo sicuramente essere più cinici davanti alla porta con Riccardo, mi pare, Martignaro. Se la palla entrava era su 2-0 la partita chiusa. L'abbiamo tenuto ancora aperta, loro hanno spinto e hanno trovato gol su due palline attive. La classifica ha ancora un po' più paura. La classifica fa più paura, però noi siamo in grado di uscire dai periodi difficili, come abbiamo dimostrato. Ora tocca a noi andare in campo le prossime partite cercando di giocarla come se fossero tutte finali, da qui fino alla fine del regionale.